Possibili disagi in vista per chi ha programmato di partire per le vacanze estive sabato 25 giugno. Il personale della principale compagnia aerea Low Coast, Ryanair, ha in programma da tempo uno sciopero di voli di 24 ore. Ma di incrociare le braccia sarà anche lo staff di Volotei, EasyJet, altre due importanti compagnie e leader dei viaggi, soprattutto tra i paesi europei. Per Ryanair, la protesta del 25 giugno rientra in una mobilitazione coordinata a livello europeo. Si asterranno dal lavoro anche i piloti e gli assistenti di volo in Spagna, Portogallo, Francia e Belgio.